Ciao a tutti, sono Paolo Alessandrini e vorrei parlarvi di una ricorrenza per me molto significativa. Venerdì prossimo, dopo domani, il giorno di Capodanno del 2021, il mio blog Mr. Palomar compirà dieci anni. Ricordo benissimo quegli ultimi giorni del 2010 in cui presi la decisione di aprire un nuovo blog, un blog che avrebbe parlato di matematica con taglio divulgativo e che avrebbe preso il nome da una delle opere più importanti di Italo Calvino. Io ero ancora nella mia cosiddetta vita precedente, non facevo ancora il prof di matematica ma l'ingegnere informatico ed ero ancora ai miei primi passi nel mondo della comunicazione matematica. Sono stati dieci anni incredibili nei quali ho avuto enormi soddisfazioni in ambito divulgativo e devo dire che una parte assolutamente determinante in questo l'ha avuta proprio il mio blog Mr. Palomar. Ci sono stati anche dei momenti di silenzio, di difficoltà, ma nel corso del 2020 Mr. Palomar ha conosciuto una straordinaria fase di rilancio, di popolarità. È stato anche l'anno in cui ho cominciato a utilizzare questo canale YouTube con dirette, con video e il canale è a tutti gli effetti una sorta di appendice del blog, una sua diretta emanazione. Per questi motivi mi sembra giusto festeggiare questo decimo compleanno di Mr. Palomar. Io vorrei festeggiarlo con voi, cari amici e cari lettori del mio blog e anche cari spettatori del mio canale YouTube, perché senza di voi che appunto seguite il mio canale, seguite il blog, leggete i miei post, questa storia non sarebbe nemmeno iniziata e quindi io vorrei ringraziarvi e condividere con voi questo momento. Ho pensato a due iniziative. La prima, a partire da oggi, vorrei rilanciare su Facebook alcuni dei miei post più significativi, dei post storici che sono stati maggiormente apprezzati nel corso di questi dieci anni. Spero che questo revival possa farvi piacere. La seconda iniziativa è bene invece voi come diretti protagonisti. Vi chiedo un grande regalo di compleanno e cioè questo. Usate l'hashtag Auguri Mr. Palomar su Facebook, su Instagram, su Twitter, scrivendo qualsiasi cosa vi venga in mente su Mr. Palomar e in generale su di me come divulgatore e autore. Ad esempio potreste raccontare come e quando ci siamo conosciuti, oppure un aneddoto che ci lega, oppure anche semplicemente cosa vi piace e cosa non vi piace nel mio modo di fare divulgazione, attraverso i post, attraverso i miei libri, nelle mie dirette video, eccetera. La campagna Auguri Mr. Palomar durerà da oggi fino almeno a metà gennaio. A tutti, e sottolineo tutti, coloro che parteciperanno a questa iniziativa, io farò un piccolo ma veramente sentito regalo. Probabilmente si tratterà di un pdf esclusivo che conterà del materiale, ovviamente mio materiale, naturalmente di argomento matematico, legato sicuramente al blog in qualche modo. Quindi coraggio, allora partecipate, mi raccomando, tenete d'occhio i post del decennale che pubblicherò a partire da oggi e soprattutto partecipate all'iniziativa Auguri Mr. Palomar. Io vi ringrazio davvero tantissimo fin d'ora, di cuore, e naturalmente auguri Mr. Palomar. Grazie a tutti, ciao.